Ricerca e impresa si incontrano a Toscana Tech la due giorni dedicata all'innovazione organizzata a Firenze dalla regione nello spazio Research to Business ha messo in contatto 61 professori, 20 start-up che fanno ricerca industriale e centinaia di aziende che potrebbero essere interessate a quelle idee, meeting fondamentali per lo sviluppo dell'industria 4.0 su cui la Toscana punta con decisione con nuovi bandi che stanzieranno fondi per chi vuole innovare. Il sistema produttivo toscano ha bisogno di un radicale processo di innovazione e noi intendiamo incentivarlo, sostenerlo, premiarlo, lo abbiamo fatto in questi recenti bandi con un'importante somme messe a disposizione ma soprattutto siamo intenzionati a mettere le residue somme disponibili dai fondi comunitari da qui al 2020 su questo settore. Si tratta di ulteriori 65 milioni che possiamo mettere a disposizione in due o tre anni, sono credo un elemento anche forte di sostegno al nostro sistema produttivo. Tante le tecnologie innovative per la fabbrica intelligente del futuro presentata a Toscana Tech dai ricercatori e dagli spin-off toscani come Soft End, la mano robotica progettata dal centro di ricerca Piaggio dell'Università di Pisa che riesce ad afferrare e manipolare gli oggetti proprio come una mano umana. La mano può compiere solo questo movimento però quando entra in contatto con degli oggetti, con delle forze, la mano si adatta e quindi gli permette di conformarsi a diversi oggetti, alle diverse attività che si devono compiere durante l'utilizzo della mano stessa. L'idea principale dello sviluppo della mano è stata quella di applicazioni sia robotiche, quindi per i robot umanoi, i robot che ci dovrebbero accompagnare nel nostro futuro. Abbiamo trovato un forte riscontro anche nell'utilizzo come protesi e quindi abbiamo attualmente attivo un progetto Soft Pro dove l'utilizzo della mano si sta muovendo in maniera molto forte verso applicazioni protesiche. Tra le eccellenze della ricerca toscana anche i soft robot sviluppati dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, robot costruiti con materiali morbidi e malleabili, capaci di interagire con gli esseri umani e l'ambiente più semplicemente ispirati nelle forme ad animali come il serpente o il polpo. Questa nuova tipologia di robot vuole utilizzare materiali che sono cedevoli, quindi morbidi e che possono essere utilizzati sia in ambito di manifattura per esempio per prendere in maniera delicati oggetti, sia come tecnologie wearable o come anche robot che vengono usati in search and rescue scenari dove per esempio possono andare su strutture collassate, su strutture che sono cadute senza danneggiare le strutture o le eventuali vittime. Svolgono compiti che possono essere più pericolosi per l'uomo ma anche in qualche modo cambiano nel concetto in cui il robot non può essere toccato, deve avere un suo spazio di lavoro a sé stante ma questa tipologia di robot che utilizza questi materiali morbidi è in qualche modo intrinsecamente sicura e quindi permette l'interazione delicata con l'uomo, con l'operaio o con qualche altro operatore. A Toscana Tech presentati anche i modelli matematici per ottimizzare i processi produttivi come quelli sviluppati dagli IMT di Lucca per migliorare le performance degli impianti fotovoltaici. Questi modelli predittivi sono delle simulazioni numeriche e matematiche che ci permettono di valutare come le performance dei pannelli fotovoltaici decadono nel tempo. Il decadimento è purtroppo un evento che avviene a causa dell'esposizione al sole, agli eventi atmosferici quindi è un qualcosa che sicuramente verrà. Grazie ai nostri modelli però riusciamo a capire entro quanto tempo questo avviene e che tipo di teneggiamenti si possono avere, aprendo la possibilità di fare una valutazione a priori dei costi di manutenzione e anche dell'impianto stesso. Nell'industria 4.0 anche la realtà aumentata trova diverse applicazioni concrete soprattutto nel campo della sicurezza sul lavoro. Ne ha un ottimo esempio lo spin-off della Sant'Anna VR Media che ha inventato lo Smart Helmet, un elmetto wireless che permette ai lavoratori in condizioni complesse o pericolose di collegarsi in tempo reale con i colleghi da remoto. È un oggetto che consente a un tecnico che è davanti a una macchina molto complessa di essere assistito da un esperto in remoto, da uno o più esperti perché molto spesso quando nel mondo c'è un macchinario che si guasta le persone che sono in loco non sono in grado di capire esattamente come funziona il macchinario o comunque cosa si può provare a fare. Allora proprio per ovviare a questa difficoltà noi lo mettiamo in comunicazione in tempo reale con chi magari è dall'altra parte del mondo ma quella macchina l'ha costruita che lo assiste per sistemare il guasto. A Toscana Tech anche Wearable Technologies, le tecnologie indossabili sviluppate dall'Università di Siena per l'industria 4.0. Sono tecnologie innovative perché permettono di inviare delle informazioni tipo vai a destra, vai a sinistra, come se avessi la sensazione che qualcuno mi tocchi sul braccio sinistro vuol dire vai a sinistra oppure mi tocca sul braccio destro vai a destra. Ora andare a destra e sinistra sembra essere facile, in realtà noi riusciamo anche a regolare proprio attraverso impulsi tattili proprio il movimento degli arti dell'uomo quindi proprio movimenti particolari. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che io posso guardare all'uomo come se fosse un robot perché non solo misuro cosa sta facendo lei in termini di movimento ma posso anche suggerirle le prossime traiettorie e movimenti da fare.